Amici telespettatori, grazie come ogni settimana della vostra presenza alla nostra trasmissione Fatti e Commenti. Un saluto va oggi a Gaetano Alaimo che non è tra noi per motivi personali. Lo salutiamo e salutiamo i lettori di Newtusha. Quest'oggi è una trasmissione particolare, perché la dedicheremo alla festa nazionale del 2 giugno, soprattutto alla ricorrenza del settantesimo anniversario di questo referendum, di questa votazione popolare che portò alla votazione, alla preferenza nei confronti della Repubblica, del sistema di Stato-Repubblica rispetto alla monarchia. Insieme a noi, quest'oggi io ne sono veramente molto contento, abbiamo gli alunni dei nostri istituti locali, vale a dire avremo prima un'intervista con i ragazzi appunto della scuola media, Antonio Deci di Orte, e poi avremo anche un'intervista con i ragazzi invece degli istituti superiori. Quindi passo subito a appunto presentarvi i ragazzi, gli studenti che sono Siria Vari e Alessandro Crocoli. Grazie, ecco della vostra presenza. Allora partirei subito con Siria e con la domanda appunto del 2 giugno. Si celebra in questa giornata la festa della Repubblica. Ecco, qual è secondo te tutto sommato la storia e il significato di questa data importante per il nostro Stato? La festa della Repubblica viene celebrata ogni anno il 2 giugno, in occasione del referendum con il quale gli italiani, a cominciare dal 1946, votarono per la forma istituzionale dello Stato, tra Repubblica e monarchia. L'avvenimento che cambiò la storia fu che per la prima volta votarono le donne. Sì, ecco, quest'altro approfondimento che vorrei chiederti riguarda le celebrazioni. Ci sono delle celebrazioni appunto tradizionali e ce li vuoi un pochino illustrare secondo questa tua ricerca? La principale celebrazione è la deposizione della Corona dall'Oro da parte del Presidente della Repubblica, attualmente Sergio Mattarella. Alla parata militare prendono parte le forze armate, la protezione civile, il corpo dei Vigili del Fuoco e persino la Croce Rossa. La parata militare è leggermente più recente rispetto alle altre celebrazioni, poiché è stata inserita nel protocollo delle celebrazioni solamente nel 1950. Dopo l'esecuzione del lino di Mameli, le frecce tricolori sfrecciano nei ciali di Roma. Bene, ecco, io vi ringrazio veramente, vorrei far notare ai nostri telespettatori appunto della precisione e del veramente approfondimento che questi ragazzi hanno fatto riguardo a questa festività e di questo veramente ne siamo contenti e facciamo i nostri complimenti ai vostri professori, ai vostri insegnanti e alla dirigente scolastica Fiorella Crocoli. Ecco, adesso vorrei passare a una domanda che faccio ad ambe due e riguarda il significato del suffraggio universale. Sappiamo che è una parola particolare, molto tecnica diciamo, suffraggio universale maschile e femminile. Perché è così importante per la nostra storia e perché viene ricordato proprio in questo giorno. Il 2 giugno 1946 fu il primo referendum a suffraggio universale dove poterono votare uomini e donne senza discriminazione di sesso e grado di istruzione. Invece il suffraggio maschile è stato istituito da Giovanni Giolitti nel 1912. Bene, ecco, passiamo invece all'emblema della Repubblica Italiana. Sappiamo che ogni Stato nazionale ha un suo emblema. Ecco, ci volete un pochino illustrare qual è il significato appunto dell'emblema della Repubblica Italiana, Alessandro? Allora, l'emblema della Repubblica Italiana è diviso in quattro elementi che sono la stella, la ruota dentata, il ramo di olivo e il ramo di quercia. La stella raffigura la forza dell'Italia raggiante, la ruota dentata, la volontà dei lavoratori italiani, il ramo di olivo, la volontà di essere pacifici e il ramo di quercia la forza dell'Italia Unita. Benissimo, ecco, invece ci occupiamo adesso in particolare del ruolo dei cosiddetti patri costituenti. Sapete che appunto l'assemblea costituente è stata quella riunione dei parlamentari che sono stati appositamente votati dal popolo italiano che ha portato all'elaborazione della Costituzione. Ecco, venivano da tutta Italia, si veniva come hanno già i nostri ragazzi anticipato, si veniva dal periodo appunto della dittatura e fu veramente il lavoro dei padri costituenti importante. Ecco, ci sono delle figure particolarmente rilevanti che avete studiato e rilevato? Sì, noi a scuola abbiamo studiato principalmente Sandro Bertini e Aldo Moro. Sandro Bertini è stato un avvocato, giornalista, partigiano e soprattutto presidente italiano. Lui era di idee antifasciste e per questo fu portato al carcere Santo Stefano dove insieme a Ernesto Rossi e Altiero Spinelli ha scritto il manifesto di Evento Tene che prevedeva l'unificazione dell'Europa. Poi dopo la caduta del regime fascista è stato liberato dalle brigate Matteotti e dopodiché ha partecipato alla cacciata dei nazisti e per questo gli è stata anche data una medaglia d'oro al valore militare. Lui è stato poi eletto dall'assemblea costituente per scrivere la costituzione e nel 1978 è stato eletto presidente italiano. Aldo Moro fu un politico e giurista italiano. Nel 1946 fu eletto all'assemblea costituente occupandosi poi della struttura della costituzione. Aldo Moro schisse anche l'articolo 34 della costituzione italiana dicendo che la scuola è aperta a tutti, quindi ognuno ha il diritto di studiare. Purtroppo però nel 1978 fu sequestrato e ucciso dalle Brigate Rosse a soli 61 anni. Bene, ecco io vi ringrazio perché soprattutto ecco anche in questi ultimi interventi avete dato veramente un'indicazione specifica anche di personaggi politici che hanno sofferto addirittura Aldo Moro anche a prezzo della propria vita per la tutela della nostra democrazia. Volevo aggiungere proprio per così ricordare al pubblico anche di una certa età e soprattutto per informare i giovani che abbiamo avuto anche un parlamentare, giovanissimo parlamentare della nostra cittadina che è l'onorevole Attilio Iozzelli che anche egli ha partecipato giovanissimo ai lavori del primo Parlamento Democratico. Ecco che è scaturito come bene dicevate voi sia dal referendum del 2 giugno del 46 che poi successivamente dalla votazione della Costituzione che poi ha fatto sì che lo Stato Democratico ecco avesse questo sviluppo e portasse questi decenni poi di pace all'interno e di sviluppo per la nostra nazione. Ecco io adesso ringrazio i ragazzi veramente vi faccio i complimenti credo anche da parte di tutti i telespettatori per la vostra preparazione i ragazzi che sono Siria Vari e Alessandro Crocoli della scuola media Antonio Deci di Orte. Grazie e buon lavoro per la vostra carriera scolastica e per la vostra vita. Grazie a lei. Amici telespettatori e dedichiamo questa seconda parte del nostro programma sempre dedicato alla festività del 2 giugno e ecco a approfondire con i ragazzi dell'istituto di istruzione superiore Fabio Vesta di Orte le altre problematiche appunto che riguardano vedrete questo significato importante del settantesimo anniversario appunto del referendum del 2 giugno del 46. Con noi abbiamo Agnese Poncia che frequenta il secondo anno del liceo scientifico, poi abbiamo Cristian delle Piagge che frequenta il secondo anno del liceo delle scienze umane e Michele Guazzaroni che frequenta sempre il secondo anno dell'istituto tecnico costruzione ambiente e territorio geometri appunto sempre dell'istituto superiore di Orte. Ecco io partirei subito da Agnese Poncia con una domanda che riguarda il voto appunto alle donne. Le donne nel 46 sino dalle elezioni delle amministrative nel marzo appunto del 46 e poi con il referendum del 2 giugno videro il pieno riconoscimento dei loro diritti politici. Secondo te quanto è stato determinante il contributo delle donne alla nostra Repubblica? Allora già nel 1945, quindi ancora quando l'Italia era sotto il dominio nazifascista, si incominciò a discutere del suffragio universale, del suffragio femminile e questo fu ritenuto una cosa indiscutibile ormai e ovvia. Infatti già il giorno dopo venne fatto il decreto che consentiva alle donne superiori ai 21 anni di votare tutte escluse le prostitute che non lavoravano nelle case chiuse. Ma dopo di questo venne fuori un altro problema che fu appunto quello delle donne elegibili. Le donne vennero rese infatti elegibili il 10 marzo del 46. La prima occasione di voto che ebbero le donne fu per le amministrative del 1946. Le donne si recarono a votare in massa, infatti circa l'89% delle donne presenti in Italia votò e la seconda occasione si ebbe con il referendum appunto del 2 giugno a suffragio universale in cui 21 donne su 226 candidate vennero elette e 9 erano appartenenti al partito della democrazia cristiana, 9 al partito comunista, 2 al partito socialista e 1 al partito dell'uomo qualunque. 5 di loro entrano a far parte della commissione dei 75 e tra queste va ricordata la Merlin a cui dobbiamo la legge sulla parità di genere e la chiusura delle case chiuse. Perfetto, ecco. Adesso passerei la domanda a Cristian delle Piagge. Ecco, il suffragio universale del 2 giugno del 46 ha dato vita, lo dicevamo, alla nostra Costituzione, alla Carta Fondamentale e con essa la riscoperta del significato di valori che sono scritti nella Costituzione. Ecco, e citando Pietro Caramandrei, la nostra Costituzione può definirsi un testamento di 100.000 morti. Ecco, qual è secondo te il compito delle nuove generazioni nei confronti di questa legge fondamentale? Allora, per noi nuove generazioni il compito che abbiamo verso la Costituzione è quello di tutelarla e non di ignorarla come facciamo spesso, perché la consideriamo una cosa che non ci appartiene, quando invece non sappiamo che per fare quei diritti che noi oggi usiamo sono morte 100.000 persone. Noi non diamo molto importanza sia alla politica che alla Costituzione, perché essendo nati sotto questi diritti e comunque queste leggi della Costituzione pensiamo che ci sono sempre state, quando invece non è così perché appunto, come dice Piero Caramandrei, per fare queste leggi sono morte 100.000 uomini. Tanto è vero che lui in un discorso che ha fatto agli studenti universitari il 26 gennaio 1955, vede la Costituzione sotto due punti di vista. Se noi vediamo la Costituzione come un pezzo di carta, come un foglio di carta, noi possiamo anche gettarla per terra e lei rimarrà lì immobile. Se invece noi consideriamo la Costituzione come un testamento di 100.000 morti, noi possiamo capire che i nostri antenati, le persone sono venute prima di noi, hanno sacrificato la loro vita per far diventare l'Italia come adesso. E vorrei leggere una metafora che ha detto proprio lui stesso in questo discorso, che parla proprio del fatto che noi trascuriamo la Costituzione. Allora, c'erano due emigranti, due contadini, che traversavano l'oceano su un piroscafo traballante. Uno di questi contadini dormiva nella stiva e l'altro stava sul ponte e si accorgeva che c'era una gran burrasta con delle onde altissime e il piroscafo oscillava. E allora questo contadino impaurito domanda a un marinaio, ma siamo in pericolo? E questo dice, se continua questo mare il bastimento tra mezz'ora affonda. Allora lui corre nella stiva a svegliare il compagno e dice, Beppe, 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 se continua questo mare tra mezz'ora il bastimento affonda. Quello dice, che me ne importa, non è mica mio. Questo sa significare l'indifferentismo che noi giovani abbiamo verso la politica, perché non lo consideriamo una cosa nostra. Quando invece lui paragona questa libertà, quindi l'interesse che noi dovremmo avere verso la Costituzione, come l'aria. Ovvero che noi iniziamo a capire la sua importanza nel momento in cui ci viene a mancare. E lui soprattutto ci augura di non provare mai questo senso di asfissia, quindi questo senso di mancanza di libertà che non ci rende persone libere come siamo ora. Benissimo. Adesso vorrei domandare a Michele Guazzaroni, quindi sappiamo questo 2 giugno, festa della Repubblica. Qual è la storia e il significato di questa ricorrenza che ti ha colpito in modo particolare? Il 2 giugno per la nostra nazione è un giorno molto importante, perché si celebra la nascita dell'Italia repubblicana. Tra il 2 e il 3 giugno del 1946 il popolo italiano a suffragio universale, al popolo italiano venne chiesto di scegliere tra Repubblica o Monarchia. La Repubblica vinse con la differenza di 2 milioni di voti e ci fu una grande disparità tra Sud e Nord Italia, perché il Nord... Sì, 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 ci fu. Poi partire da... Il Sud ha sempre avuto la monarchia, quindi non vedeva speranze nella Repubblica. Perfetto. Se vuoi partire, può partire da... Perché il Sud non ha mai visto la Repubblica, ha sempre avuto una monarchia e quindi era abituato a questo tipo di regime, mentre il Nord voleva espandersi e voleva la Repubblica, appunto. Prima del 2 giugno la festa nazionale italiana era la prima domenica di giugno in onore della concessione dello saluto albertino. Bene, ecco, un'altra domanda che volevo farti è quali manifestazioni si svolgono in questo giorno in Italia e all'estero? In questo giorno, sì, questo giorno si divide in tre momenti diversi. Il primo momento è la deposizione di una corona dall'oro da parte del Presidente della Repubblica presso il Milite Gnoto, presso l'altare della Patria a Roma, a Piazza Venezia. Il Presidente della Repubblica, in questo caso Sergio Mattarella, viene accompagnato dalle più alte cariche dello Stato, cioè Presidente del Senato Pietro Grasso, Presidente della Camera dei Deputati Laura Boldrini, Presidente del Consiglio dei Ministri Matteo Renzi e Ministro della Difesa Roberta Pinotti. Successivamente alla deposizione della corona dall'oro, le frecce tricolore passano, solcano i cieli di Roma e si suona l'inno nazionale, cioè Fratelli d'Italia. Successivamente c'è una parata militare in via dei Fori Imperiali che collega al Colosseo a Piazza Venezia, dove sfilano le forze armate italiane, cioè abbiamo le forze di polizia, l'arma dei carabinieri, il Corpo Nazionale, le vigili del fuoco, la Croce Rossa Italiana. E questo viene fatto appunto alla presenza delle più alte cariche dello Stato, in questo caso per il settantesimo anniversario, cioè quest'anno, sfileranno anche i sindaci dei comuni italiani aderenti a Lanci, Associazione Nazionale Comuni Italiani, appunto per il settantesimo anniversario. L'ultimo momento per concludere questa festa, vengono aperti nel pomeriggio i giardini del Quirinale, dove assiede la Repubblica, e suoneranno in quel giardino i complessi bandistici dell'esercito italiano. Questa ricorrenza non viene festeggiata solamente in Italia, ma viene festeggiata anche all'estero, nelle ambasciate italiane, dove gli ambasciatori appunto invitano i capi di Stato dei paesi ospitanti per festeggiare questa ricorrenza. E al nostro capo di Stato, cioè Sergio Mattarella, vengono fatti gli auguri da tutto il mondo. Benissimo, ecco. Ti ringrazio soprattutto per queste precisazioni che hai dato, perché ci fanno comprendere molto di più, diciamo, di quanto possiamo immaginare e quanto sia importante anche nei confronti, ecco, delle altre nazioni questa festa del 2 giugno. E anche, ricordavi bene, questo elemento che quest'anno parteciperanno alla sfilata appunto del 2 giugno anche i sindaci, quindi a livello territoriale c'è questa rappresentanza appunto dei primi cittadini d'Italia. Adesso a Cristian delle Piagge, volevo domandarti se hai notato delle differenze, quale differenza hai notato tra la ricorrenza del 2 giugno e le feste del 25 aprile e del 1 maggio? Sì, la differenza sta nei fatti accaduti in quei precisi giorni. Allora, andiamo però per ordine, quindi. Il 25 aprile del 1945 ci fu la liberazione dal regime nazifascista. Invece il primo maggio del 1889, per la prima volta i lavoratori, questa festa è stesa in tutto il mondo, ricevettero dei diritti, come ad esempio il diritto di lavorare solo otto ore e così dicendo. Poi abbiamo appunto il 2 giugno dove ci fu il referendum tra la monarchia e la repubblica e fu a suffraggio universale. Questa festa, il 2 giugno, che per la storia italiana è molto importante, non possiamo paragonarla al 25 aprile, al 1 maggio, ma possiamo bensì paragonarla al 4 luglio statunitense del 1776 e al 14 luglio francese del 1789. Allora, il primo, quindi il 4 luglio statunitense, è successo che le 13 colonie si distaccarono dalla corona inglese, quindi dalla Gran Bretagna e man mano diventarono gli attuali Stati Uniti d'America. Mentre il 14 luglio francese determinò la presa della Bastiglia e quindi la fine della monarchia e l'inizio della repubblica. Benissimo. Ecco, e quindi vorrei concludere adesso con una domanda a Agnese Poncia. Vale a dire, nell'archivio storico, avete fatto appunto questi approfondimenti, avete trovato dei dati relativi appunto all'elezione del 2 giugno nel comune di Orte in occasione appunto di questo referendum e potreste riassumerli e anche se avete poi notato delle incongruenze o delle similitudini con la situazione nazionale. Allora, appunto nell'archivio storico delle elezioni abbiamo trovato dei documenti riguardanti l'Assemblea Costituente del 2 giugno 1946 a Orte. A Orte abbiamo 5.802 lettori e i votanti furono 5.323, quindi il 91,74%. Il partito che ottenne più voti fu il Partito Socialista Italiano Unità Proletaria per un 38,76%, successivamente abbiamo la Democrazia Cristiana con il 21,70%, poi il Partito Comunista Italiano con il 15,48%, il Partito Repubblicano Italiano con il 12,24%, poi altre liste varie che ottennero circa il 3,36% dei voti e poi l'Uomo Qualunque che ottenne 3,64% e il Blocco Nazionale Libertà che ottenne il 2,49%. Questi due partiti ottennero pochi voti perché erano dei partiti filomonarchici. Poi un altro partito che ottenne pochissimi voti fu il Partito dei Cristiani Democratici per la Repubblica che era quindi un partito che si accostava alle idee repubblicane e Orte diciamo che essendo più verso il centro-sud non condivideva appieno queste idee e il Partito d'Azione che come il Partito dei Cristiani Democratici per la Repubblica ottenne solo lo 0,26% per un totale di 5.059 voti. Benissimo, ecco veramente complimenti avete così caratterizzato questo significato del 2 giugno ecco noi dobbiamo ringraziare credo da parte dei telespettatori un ringraziamento per questo vostro lavoro che avete fatto sicuramente seguendo questa trasmissione avremo sicuramente approfondito dei significati nuovi c'è sicuramente tra i telespettatori chi ha partecipato a quelle votazioni appunto del 2 giugno e avrà così ricordato quelle sensazioni che ha provato nel votare in uno stato diciamo libero e democratico e per i giovani come avete fatto voi sarà sicuramente un approfondimento dei significati su cui si fonda il nostro vivere civile. Io ringrazio della vostra presenza voi ragazzi ringrazio i vostri insegnanti e auguro a tutti appunto un buon fine settimana.